ora tratteremo dei segreti rivelati all'iniziato durante la cerimonia di iniziazione è evidente che è possibile accennare soltanto al fatto del segreto e al suo soggetto ed anche questo sarebbe stato messo se la conoscenza delle linee generali non incitasse chi si prepara all'iniziazione ad uno studio più attento e a raccogliere nozioni con maggiore diligenza per preparare così il corpo mentale in tal modo quando sarà il cospetto dell'iniziatore saprà utilizzare il segreto senza perdere tempo ebbene dopo il giuramento che impegna all'inviolabile segretezza il neo iniziato si avvicina solo allo ierofante pone una mano sull'estremità inferiore della verga di iniziazione che lo ierofante tiene nella parte centrale le tre personalità che circondano il trono pongono le mani sul diamante scintillante che sormonta la verga e quando tutti e cinque sono così collegati dall'energia circolante che emana dalla verga l'iniziatore confida il segreto all'iniziato la ragione di tutto questo è che ognuna delle cinque iniziazioni di cui trattiamo poiché non essendo obbligatorie le due superiori esulano da queste considerazioni produce effetti su uno dei cinque centri dell'uomo che sono la testa il cuore la gola il plesso solare e la base della colonna vertebrale inoltre gli rivela certe conoscenze relative alle diverse forze o energie che animano il sistema solare e che li giungono attraverso un particolare centro eterico con l'applicazione della verga i centri dell'iniziato sono stati influenzati in maniera particolare con la rivelazione del segreto gliene viene spiegata la ragione identica a quella che necessariamente produce una particolare manifestazione planetaria e un grande ciclo specifico quindi si potrebbe dire che primo ogni segreto riguarda l'uno o l'altro dei sette piani del sistema solare secondo ogni segreto si riferisce ad una delle sette leggi di natura e ne è l'enunciazione perciò ogni segreto si riferisce ad una delle evoluzioni fondamentali di ciascun schema planetario ogni schema incarna una delle leggi quale sua legge primaria e tutte le evoluzioni che vi si svolgono tendono a manifestare la perfezione di quella legge con le sue sei permutazioni complementari ognuna delle quali differisce in un particolare dipendente dalla legge primaria manifestata terzo ogni segreto da la chiave della natura di qualche particolare logos planetario e quindi di conseguenza anche delle caratteristiche delle monadi di quel particolare raggio planetario è naturale che tale conoscenza sia indispensabile all'adepto che cerca di lavorare con i figli degli uomini e di dirigere le correnti di forza che li influenzano e che da essi emanano quarto ogni segreto concerne un raggio o un colore e ne svela il numero la nota e la vibrazione questi sette segreti sono brevi formule che non hanno valore di mantra come la parola sacra ma sono di natura matematica esattamente formulate per trasmettere il preciso intento di chi le pronuncia a chi non è iniziato e se apparirebbero o risuonerebbero con formule algebriche ma per il chiaro veggente ciascuna è composta da un ovale di colore specifico che varia in base al segreto impartito contenente cinque geroglifici o simboli un simbolo contiene la formula della legge un altro la chiave il tono planetario un terzo la vibrazione mentre il quarto mostra il numero e il dipartimento cui il raggio appartiene il quinto geroglifico indica una delle sette chiavi per mezzo delle quali i membri della gerarchia planetaria possono collegarsi con quella solare naturalmente questi sono solamente accenni vaghi e anche poco chiari ma servono comunque ad indicare che come la conoscenza delle parole richiede l'uso dei sensi i due sensi così è dei segreti i quali sono uditi e visti simbolicamente dall'occhio interiore ora sarà evidente perché si dia tanta importanza allo studio dei simboli e perché gli aspiranti siano ripetutamente invitati a riflettere e meditare sui segni cosmici e sistemici ciò li prepara ad interpretare e ricordare interiormente i simboli e le formule che rappresentano la conoscenza a loro necessaria formule che si basano su nove simboli che sono abbastanza noti ma che noi ricordiamo abbiamo la croce nelle sue varie forme il loto il triangolo il cubo la sfera e il punto otto forme animali che sono ariete toro elefante uomo drago orso leone cane la linea alcuni segni dello zodiaco per questo è necessario lo studio dell'astrologia infine la coppa o santo graal tutti questi simboli uniti intrecciati o presi da soli vengono combinati per esprimere l'uno l'altro dei sette segreti l'iniziato deve riconoscerli visivamente ed anche udirli e con un atto di volontà imprimerli indelebilmente nella materia tre fattori lo aiutano in questo senso in primo luogo il precedente lungo esercizio di osservazione di cui abbiamo già parlato che può essere fatto in qualsiasi momento da tutti gli aspiranti che imparando ad imprimere accuratamente i particolari nella memoria si preparano all'esatto ed istantaneo apprendimento di ciò che lo ierofante presenterà loro poi in secondo luogo l'aver coltivato il potere di visualizzare interiormente ciò che è stato veduto una volta sarà evidente perché tutti gli istruttori di meditazione seri abbiano sempre dato importanza alla facoltà di costruire immagini mentali esatte lo scopo è duplice insegnare visualizzare accuratamente le proprie forme pensiero in modo da non dover perdere tempo con trasformazioni inesatte quando si comincia a creare coscientemente e poi mettere in grado di riprodurre esattamente il segreto ricevuto per poterlo così usare istantaneamente quando sia necessario e poi infine la forte volontà delle quattro personalità che tengono la verga insieme all'iniziato la loro concentrazione mentale intensa facilita grandemente l'apprendimento nell'evoluzione umana certi tipi di forza sono generati trattati assimilati ed usati da prima inconsciamente poi con piena intelligenza ora nell'aula dell'ignoranza la forza o energia di brama cioè l'attività e l'intelligenza della sostanza è la più usata e l'uomo deve imparare il significato dell'attività basata sull'energia inerente l'energia assorbita l'energia di gruppo l'energia materiale ossia quella celata nella sostanza fisica nell'aula di apprendimento l'uomo diviene consapevole e fa uso dell'energia del secondo aspetto nel costruire forme nei rapporti sociali in quelli familiari e lì perviene ad un riconoscimento del sesso e dei suoi rapporti ma considera ancora questa forza come qualcosa da dominare e non da usare in modo cosciente costruttivo e poi abbiamo l'aula della saggezza dove l'uomo perviene alla conoscenza del primo aspetto dell'energia l'uso dinamico della volontà nel sacrificio e gli ha confidata la chiave del triplice mistero dell'energia nelle altre due aule era divenuto consapevole del triplice aspetto di questa energia alla terza quarta e quinta iniziazione però gli vengono affidate le chiavi dei tre misteri gli viene confidata la chiave del mistero percepito nella prima aula il mistero di brama e può liberare le energie nascoste nella sostanza atomica nelle sue mani è posta la chiave del mistero del sesso e delle paia di opposti e può liberare le forze celate dell'aspetto volontà gli viene mostrata la dinamo del sistema solare se così ci si può esprimere e gli sono rivelate le complessità del meccanismo termino con i tre misteri solari che sono il mistero dell'elettricità cioè il mistero di brama il segreto del terzo aspetto ed è latente nel sole fisico il mistero della polarità o dell'universale impulso del sesso quindi il segreto del secondo aspetto che è latente nel cuore del sole o sole soggettivo e il mistero del fuoco stesso o la forza centrale dinamica del sistema che è il segreto del primo aspetto ed è latente nel sole centrale spirituale